ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò dove trovare la runa nel livello miniera di pietra rossa in minecraft dungeon praticamente finite il gioco ovviamente come sempre dopodiché avviate questo dungeon e una volta che siete arrivati al punto dove dovete salvare i 6 minatori o quello che sono raggiungete questa posizione ecco salvatevi magari il punto sulla mappa qui salvate questa foto magari mettete in pausa il video una volta che siete qui basta interagire con questo pulsantino nascosto per sbloccare l'accesso alla runa praticamente quindi andate qui come sempre interagite con il pulsantino per prelevare la runa quindi se avete fatto tutto correttamente qui troverete la runa ad aspettarvi